Impianto elettrico della barca, versione PRO. Tutti abbiamo l'impianto elettrico in barca, sicuramente per far funzionare i nostri strumenti, per il VHF, per chi magari ha una radio, un frigo, ma è ancora prima di tutte queste utenze ci deve essere un impianto, un impianto che serve per mantenere le batterie cariche, per ricaricarle, per ricaricarle nel modo corretto, con i motori ovviamente, o con i pannelli solari, o con il caricabatterie se abbiamo la possibilità di attaccare anche la linea di terra. Comunque tutto questo impianto deve essere costruito in un certo modo, altrimenti noi rischiamo di, uno, rovinare in un modo abbastanza prematuro le batterie, due, non sfruttare appieno magari le capacità delle nostre batterie, quindi aver minor durata in pesca. Tre, non avere un impianto fatto nel modo giusto che ci dia anche una certa sicurezza. Ho avuto diverse richieste in questo senso, quindi mi sono deciso, ho detto bene, allora prepariamo uno schema elettrico, ve lo faccio vedere e ve lo faccio anche un po' analizzare, così potete un po' anche confrontare il vostro impianto elettrico della barca con quello che vi propongo io oggi e potete valutare se il vostro impianto appunto è fatto bene, male, oppure bisogna integrarlo con qualcosa. Nella descrizione, qui sotto il video, troverete i link dei prodotti che io ho usato. Esistono in commercio anche prodotti similari che fanno le stesse cose. Io uso sempre questi, quindi per me è molto semplice spiegare e mostrarvi questi prodotti. Innanzitutto lo schema che io vi ho preparato, che ve lo mostro immediatamente, eccolo qua, è fatto per due batterie servizi messe in parallelo. In questo caso avevo previsto due batterie da 75 ampere della Optima, vi lascerò anche di quelle il link, che secondo me sono le batterie in questo momento migliori, restando sulle AGM al piombo. Volendo si può anche fare un'integrazione e passare le batterie al litio, però lì siamo già oltre. Allora, qua abbiamo un impianto con una o due batterie servizi. Sono disegnate due ma sono messi in parallelo, quindi al limite potrebbe esserci anche una batteria sola. Una batteria avviamento motori, che verrà usata esclusivamente per l'avviamento dei motori, anzi, del motore. Se abbiamo due motori fuori bordo, è bene avere due batterie avviamento, una per ciascun motore, in modo di riuscire a costruire un impianto, diciamo, completo per due motori, quindi vanno fatte alcune modifiche. Non è questo il caso. Questo è un impianto fatto bene, anzi, ottimizzato direi, per una barca con un motore, quindi con un sistema di carica, carica batterie da terra, che è questo qui, ve la mostro subito, è questa parte qui. Abbiamo due batterie servizi, messe in parallelo, quindi i volt rimangono sempre 12 ma si sommano gli ampere. Un'altra batteria d'avviamento, che questa servirà solo per l'avviamento del motore, si potrebbe usare tranquillamente una Optima, per esempio rossa, che è un po' più piccola, a 50 ampere, e che potrebbe servire anche solo per il motore. Poi tutto intorno ci sono una serie di accessori che rendono questo impianto particolarmente affidabile e funzionale. Vi faccio notare subito il risultato di questo impianto. Noi quando siamo in pesca, quando stiamo utilizzando i servizi, andiamo a utilizzare solo le batterie dei servizi. Tramite questo fusibile da 100 ampere e un interruttore generale, che ci permette di staccare l'energia quando ce la andiamo dall'imbarcazione. Andiamo a finire su una barra di fusibili, è sempre meglio mettere fusibili su tutte le linee, perché veramente ci salvano la vita. E' meglio avere un fusibile da sostituire che avere una linea bruciata o elementi dell'impianto che saltano. Su questa linea noi andremo a collegare i nostri servizi e sui servizi dopo faremo un video a parte che riguarderà proprio l'impianto dei servizi, che anche quello deve essere fatto diciamo in un modo un po' particolare. Mi riferisco come servizi esclusivamente ai strumenti, radio, VHF, quello che è il plotter, l'ecoscandaglio, il black box, il pilota automatico. Ecco, si va a prendere tutto qui tramite sempre un fusibile. Una parte importantissima di questo impianto è data da questo prodotto qua, che si chiama Chirix, che ce l'ho anch'io qua. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Questo qui, che è anche abbastanza piccolino. Ve lo faccio vedere di nuovo. Ed è la Victron Energy. Ha due poli sotto, più altri due Faston. Sul nostro sulla nostra... Eccola qua. Sul nostro schema, lo vedete qua su in alto. Cosa serve questo? Questo serve per far fluire la corrente di ricarica del motore attraverso lui, quindi quando il motore è acceso, è attraverso i fusibili su questa linea e serve per ricaricare le batterie dei servizi. Quando il motore non genera più corrente di carica, cioè spegniamo il motore, mettiamo il motore al minimo e non carica più, automaticamente lui stacca questa linea. Quindi noi non avremo più la carica del motore sulle batterie dei servizi, ma soprattutto non scaricheremo la batteria d'avviamento con l'uso nei nostri servizi. Noi spegniamo il motore, automaticamente la batteria d'avviamento viene separata dall'impianto. La bellezza di questo prodotto, innanzitutto, è già tutto programmato, non dobbiamo fare niente. Lui si accorge quando la tensione, in questo punto, sale oltre i 13 volt, capisce che il motore sta caricando. In quel momento collega i due poli insieme e il motore è in grado di caricare le batterie dei servizi. Se dovessimo mettere in moto il motore e magari la batteria d'avviamento un po' stanca, ha un servizio, questo, questi due poli, che vi ho segnato qua in alto sempre su questo schema, che servono per far collegare insieme questi due terminali. Quindi io posso utilizzare anche la corrente di batteria dei servizi, attraverso sempre il Cirix, che in questo caso mette semplicemente in parallelo con la batteria d'avviamento. Questo come funziona? Quando devo fare l'avviamento ho un pulsante sul cruscotto, lo schiaccio e lui automaticamente per 30 secondi mette in contatto, in parallelo, la batteria servizi con la batteria d'avviamento. La cosa interessante e la cosa importante di questo prodotto è che lo possiamo mettere vicino alle batterie. Quindi noi non dobbiamo venire su, sul cruscotto con dei cavi grossi, con interruttori o aggiungere una chiave a mano per mettere il parallelo. Noi siamo sul cruscotto, abbiamo semplicemente un pulsante, schiacciamo il pulsante, per 30 secondi mettiamo insieme le batterie, mettiamo in moto, dopodiché automaticamente si staccano e tutto funziona come prima. Un'altra cosa, sempre su questo impianto, parliamo sempre della parte 12V per il momento, abbiamo il carica solare. Questo, che è quello che adesso vi ho messo anche sul link in descrizione, questo secondo me è il miglior prodotto rispetto qualità-prezzo, perché è in grado di caricare innanzitutto due batterie separatamente. E, oltre a fare questo, ha un costo contenuto e ha anche un modulo che si può mettere sul cruscotto per tenere sempre tutto sotto controllo. Ve lo mostro. Ecco qua. È una scatola abbastanza semplice. E questo è il caricatore. Come vedete, è un PWM, questo vuol dire che gli si può dare una tensione più elevata all'ingresso che lui gestisce benissimo, e con un pannello solare, o meglio anche due, messi in serie, ha due uscite, sia per la batteria servizi, o il pacco batterie servizi, e la batteria motore. Quindi i due impianti rimangono isolati, ha un costo contenuto e funziona molto bene. Eccoci qua. Allora, abbiamo visto il caricabatterie, che si trova qui. Qui abbiamo un interruttore. Abbiamo messo un interruttore di emergenza sul pannello solare. Questo perché? Bisogna stare attenti con tutti i carica solare. Se noi abbiamo il pannello solare attivo, cioè c'è il sole, la luce, e alimentiamo il carica solare, devono esserci sempre collegate le batterie di ricarica. Se noi scolleghiamo una batteria, per far manutenzione, perché la togliamo dalla barca, e ci dimentichiamo di staccare anche i pannelli solari, sicuramente lui si brucia. I pannelli solari vanno troppo su, lui non ha un carico, e salta. Quindi è fondamentale, sempre, avere un interruttore, o almeno un spinotto, da aprire, da togliere, e dopo staccare le batterie. Come vedete, il carica solare è collegato alle batterie direttamente, senza passare dal main switch, cioè dagli interruttori generali. Questo perché, quando io vado via dalla barca, ovviamente, devo staccare le batterie, ma devo comunque lasciare attaccato il caricabatterie, in modo che possa caricare le batterie durante le giornate in cui non sono in barca. Anche la pompa di sentina deve essere collegata direttamente sulle batterie, sempre con un suo fusibile, ovviamente, in modo che una volta anche staccata la corrente generale con l'interruttore di servizio, continuo ad avere la batteria sempre alimentata. Un altro accessorio molto interessante è questo, della Victron Energy, che è praticamente un visualizzatore di stato delle batterie, con il suo shunt, che è questo. Vi mostro anche in questo caso il prodotto. E questo. Come vedete all'interno abbiamo dei cavi e soprattutto abbiamo la possibilità di controllare anche tutti i dati tramite il Bluetooth del telefono. Ha anche l'ingresso diretto per controllare la tensione di due batterie, cioè batterie servizi e batterie motore. Sulla batteria servizi abbiamo il shunt, che come vi ho mostrato prima, eccolo qua, questo shunt Victron, è proprio questo, il suo, questo qua, va collegato tra tutti i negativi e la linea che va alle batterie. Tramite questo shunt lui ci dirà se la stiamo scaricando la batteria o se la stiamo caricando. E tramite questi due fili rossi più sottili che partono sempre da qua. Lui legge anche la tensione delle batterie e ci dirà esattamente la carica della batteria. Se è il 100%, l'80%, il 70%, il 60%. Tutti questi valori ovviamente sono impostabili. Bisogna dargli delle informazioni, che batterie installiamo, però ci sono le istruzioni ed è anche abbastanza semplice da settare. Questo strumento ha anche un altro ingresso per cui sempre con lo stesso display io posso tenere sotto controllo per esempio il caricabatterie. Caricabatterie che sarebbe questo. Ve lo mostro anche questo. Ecco qui. E' un caricabatterie abbastanza semplice che comunque gestisce fino a tre banche batterie in modo separato. Quindi molto comodo da usare. Corrente massima 30A. Anche questo è possibile controllarlo con il bluetooth del telefono. Questa cosa vuol dire che se lo andiamo a mettere in una sentina noi accedendo all'app della Victron possiamo tenere sotto controllo sia il volmetro che abbiamo lì e possiamo tenere sotto controllo anche il caricabatterie e possiamo andare a vedere come è la situazione. Si sta caricando, se è tutto ok, tensioni. Sempre sullo stesso schema ho aggiunto ancora un accessorio. Si chiama Global Link 520. Non mi è ancora arrivato e quindi non ve lo posso mostrare in questo momento ma è un prodotto abbastanza interessante. Questo ci permette di tenere sempre sotto controllo tramite una rete internet o meglio una sim card VLT cioè una sim di quelle del telefonino per intendersi che va messa all'interno di questo box e ogni 15 minuti o ogni 10 minuti lui manda al cloud la situazione di tutti gli impianti che ci sono sulla barca in modo che noi da remoto possiamo vedere se c'è il caricabatterie acceso se i pannelli solari stanno funzionando se le batterie si stanno caricando le condizioni generali di tutta la barca si possono anche impostare alcuni allarmi se salta la corrente per esempio sulla banchina o se qualcuno ci stacca la presa possiamo fare delle cose molto interessanti. Un altro accessorio che secondo me è fondamentale se noi lasciamo la barca collegata in banchina e questa parte qui sotto questo qui è un separatore galvanico dovrò fare un video anche appositamente solo su questo accessorio che è veramente poco conosciuto ma in realtà è di fondamentale importanza. Se noi abbiamo la barca e abbiamo le prese della corrente che alimentano per esempio il caricabatterie ma potrebbe essere anche un frigo 220 volts potrebbe essere la televisione potrebbe essere qualsiasi cosa che abbiamo in barca e abbiamo la massa i negativi di tutti i nostri accessori che sono collegati con la massa della corrente che abbiamo in barca automaticamente rischiamo di avere delle correnti galvaniche dovute a una differenza di potenziale di massa tra la terra la massa che viene fornita dalla marina e la nostra imbarcazione questa genera una corrente parassita tra proprio i metalli che sono sull'acqua dove abbiamo il contatto con il mare e la terra stessa e abbiamo la distruzione di tutti gli anodi e se non abbiamo sufficienza anodi andiamo anche a rovinare le nostre apparecchiature elettroniche quindi se si usa attaccare a terra sulla banchina l'alimentazione della barca soprattutto per chi ha motori fuori bordo o entro fuori bordo che sono comunque sempre immersi in acqua ma anche per i motori entro bordo per intendersi bisogna sempre inserire un separatore galvanico di massa questo vuol dire che si ha comunque una massa però la massa della barca e la massa della terra sono collegate ma isolate so che è un concetto un po' difficile da spiegare ma funziona proprio così sono separate però tutte e due funzionano quindi sul cavo verde della presa banchina si mette questo box che ha solo un ingresso un'uscita sempre per la massa e l'uscita va collegata con la barra dei negativi la quale come vedete anche qua sul mio schema è collegata allo zinco sacrificale e alla piastra di massa la piastra di massa è un altro accessorio molto importante soprattutto se in barca abbiamo VHF 80 strumentazione elettronica questo a cosa serve la piastra di massa praticamente è una specie di parallelipipedo fatto da microsfere in bronzo pressate che sviluppa una superficie di contatto con il mare molto molto elevata parliamo di anche 3, 4, 6 metri quadrati questo permette di rendere equipotenziale la nostra massa in barca rispetto al mare e quindi il mare diventa un piano di massa se noi abbiamo la barca tutta in vetro resina e abbiamo solo magari un zinco un asse o solo il motore fuori bordo che tra l'altro è anche pitturato quindi a pochi contatti con l'acqua di mare le superfici in gioco sono nell'ordine di mezzo metro quadrato un metro quadrato è troppo poco per avere una piastra di massa funzionante e che funzioni bene quindi bisogna aggiungere anche questo accessorio tutte le barche grandi normalmente ce l'hanno se abbiamo una barca con tanta strumentazione elettronica io consiglio di aggiungere anche questa piastra di massa quindi piastra di massa più zinco anodo sacrificale più separatore galvanico di massa per chi usa tenere la presa diciamo della corrente a banchina terra collegata con la barca e lasciandola lì magari anche tanto tempo se voi usate sporadicamente il caricabatteria in barca e normalmente non avete la linea a terra se dovete fare una cosa di un'ora due ore non succede nulla non è obbligatorio però per le barche che invece usano spesso questa cosa che hanno magari non so anche tante barche hanno una stufetta durante l'inverno differente beh in questo caso è assolutamente obbligatorio aggiungere questo accessorio sulla linea d'ingresso ovviamente va montato un magneto termico con differenziale in modo che se inadvertitamente voi andate a toccare un polo delle due delle fasi più neutro che arriva in barca automaticamente deve saltare un salvavita fondamentalmente come è quello che si usa negli appartamenti però funziona bene solo se abbiamo la piastra di massa e la barra negativi collegata così come vedete che ho fatto io un'altra cosa quando si mettono tutte le masse su tutti i vari oggetti gli strumenti eccetera bisogna collegarle tutte nello stesso punto non si possono fare dei cerchi quella massa che va a un'altra massa che va a un'altra massa e magari dopo ritorna qui fare un anello vuol dire costruire delle correnti parassite che cominciano a girare all'interno dell'anello e queste portano disturbi e correnti galvaniche e altri problemi che bisogna assolutamente evitare bene queste sono tutte le basi che servono per costruire un impianto pro che ci dia comunque la sicurezza di avere un impianto fatto bene senza problemi e che ci dia la possibilità appunto di godere di tutta l'energia di cui abbiamo bisogno sicuri che tutto rimarrà perfettamente carico e funzionale per tanto tanto tempo utilizzare dei sistemi diversi con impianti di questo tipo vuol dire non essere proprio tanto precisi